Addio all'erba dello stadio Benelli. Il campo da calcio, esausto e da anni regredito di ogni minima capacità di drenaggio, lascia il posto alla rigenerazione sulla quale il comune di Pesaro ha investito 900.000 euro per ricostruire alla radice il manto erboso del campo della Vis. Una Vis Pesaro che avrà un terreno di ultima generazione misto sintetico naturale. Non subito però, perché l'idea iniziale di cominciare i lavori all'indomani dell'ultima gara del campionato, ovvero lo scorso fine aprile, si è concretizzata solo da una settimana. Ora i lavori non potranno terminare entro il 27 agosto, data dell'inizio del campionato di Serie C 2023-2024, il sesto consecutivo con la Vis Pesaro ai blocchi di partenza. Va da sé che per le prime partite casalinghe la Vis dovrà traslocare da Pesaro. Quasi certo che il trasloco sarà lo stadio Tubal di Recanati. Si incrocia le dita che i lavori consentano alla Vis di allontanarsi dal Benelli solo per la prima metà di settembre. La data presunta di fine lavori è infatti quella del 13 settembre per consegnare un'opera attesa da anni e per risolvere un problema strutturale degenerato di stagione in stagione. Il progetto, eseguito dalla ditta del Fino di Teramo, prevede anche l'avvicinamento del campo alla tribuna centrale e l'interramento delle panchine. Da anni si interviene a step di lavori sullo stadio Benelli e si andrà avanti così anche dopo il manto erboso. Aspes infatti a breve presenterà un progetto per l'abbattimento del muro che corre lungo via campo sportivo. Si punta dunque ad aprire lo spazio verde ad oggi chiuso nel perimetro dello stadio ed è prevista anche una nuova sede del Circolo Amici della Vis, una farmacia e una sala polifunzionale. Nelle progetto non rientra la copertura della tribuna Prato, una copertura alla quale erano destinati inizialmente 900.000 euro poi dirottati sul terreno di gioco di concerto con le esigenze della Vispesaro. Ora si cercano finanziamenti per completare anche questa copertura attesa da anni dai tifosi.